Negli episodi precedenti Bene ragazzi siamo i Granals e siamo tornati con un nuovo video insieme Football Edge 2014 World Cup Pillo di testa! C'è il 5 a 6, c'è il 6 a 4 Dai sotto a compillo! Dai che sono gli ultimi minuti! Non molliamo! Non molliamo! No, che tacci tua! Così direbbe Garesa Dai che pregio ci serve! Dai! Dai! Sì! Dai! Allora L'Italia è prima con 4 punti Comunque vada dovremo farcela Ora Dio il mio nome No non è vero Dai cazzo Non è comunque vada Ecco ho sbagliato Uh Che cosa io ho preso? Guardate eh Occhio Suarez morde Dai 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 Libera Suarez No no dai dai Sta tutto nelle tue mani Bello Oddio le gol Ottocci tua Stronzo Fate un altro autocoll Vai che lo famo, è il nostro, è il nostro Vai È il nostro No, no, no Ma corri, provaci Mettici denacia È il nostro un cazzo No, che cazzo fai? Tira, ma che stai a fare? Ma che cazzo Non c'è parole Beh, l'andiamo a riprendere, Beppe Ma che fai riprende? No Guardate, oh Guardate che cazzo hai fatto Oh, io l'ho fatto L'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto L'ha fatto lui, non l'hai fatto te Ma è lui C'è tre pari, boh, boh, boh Gioca, gioca No, ti stai pari, dai mi quadratura, mi sa No, no, tranquillo Oh, già sì Ti faltano tutto Ci apprezziamo a diventare i primi del girone Eccolo No, no Cazzo, ma la faccio, ma la faccio Quanto manca la fine? 40 minuti Pintroppo Non so Una fammelina Da solo, poi Eccolo, sì 5 a 3, Beppe Ci siamo qualificati, eh Ci siamo qualificati, eh E' zitto un po' Ci siamo qualificati Mamma mia Grandissimo Ora si Prego a se stessa Ora possiamo dirlo Ponci, ponci, pon 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 Mamma Oddio che bello Oddio che bello No, no E' lo fatto, non l'ho fatto No Do cazzo, vai, a strozzo A strozzo A strozzo Vieni, vai Vieni, vieni, vieni Vieni così Vieni Ah, sì No, non è morto Mora, non è morto Immagini qua Ha morto Dai la segnala No Incredibile, Italia si è qualificata prima Andiamo contro la Grecia Gli ottavi con la grecia con la grecia un giro un zero parte toccava a me però arriva ci quanti la data la data si poi si fa la finale a strozo tutto calcolato eh cazzituochi siete che ho voluto fare la voltagna no 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 rimaniamo così non ti ha legge tovamo veloci inizia tutto il che coso oddio non ne mordere no bello bello no 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 da no da perché ste cazzate tranquilli ma che tranquilli c'è stato di documentare in caso oddio cosa dicevi questi sei gol questi sei gol da fa grande l'ho fatto l'ho fatto ora l'hai fatto non l'ho fatto l'ha fatto non l'ha fatto non l'ha fatto non l'ha fatto porca troia no eh no eh da non può scorrere così tanto la palla ho palata no oddio l'ho fatto l'ho fatto mamma mia ragazzi bam no portacci sua questa testa parata del merda eccolo no dimmi non ci vuoi eh io sono concentrati se non riesco più a parlare l'ho fatto ragazzi dai e mo dice solo l'ho fatto l'ho fatto eccolo l'ha fatto eh l'ha fatto l'ha fatto per lui l'ho fatto oddio 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 oh se sei a quattro qualificati aspetta no che cazzo fai tutto calcolato fidati di me ma che cosa fidati di me e andiamo ai quarti vai contro che andiamo? con la spagna con la spagna andiamo a prendere la semifinale vai come arriverai sicuro è silva dovevo dire no perché non sa ah ma vaffanculo ma sta qua ecco perché in salta mai e ne porti a ciro No che gol nei gol no che cazzo fai pippo mamma mia pippo ti ho detto pippo oddio mamma no Sì, sì, va bene così! Umba mia che salvatano! Tiraci! Oh, vai con il tira! Oh, 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 oh! No! No! Oddio, è roba così! Ma perché ho saltato? Perché ho saltato? Mortacci mia, non mi ha segnato lui! No, 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 no! Che è? Facci tutto! Non so saltare! È uguale, non puoi giocar se non sei saltato! Oh, cattolivo! Dai, dai! Dai, dai! Occhio! Non tira! Tira! No, perché non tira? Perché non ha tirato? Posso? No! Mia! Vai, no! Troppo forte! No, no! Te prego! Te prego! Te prego! Te prego! Perché? Perché ha fatto così? Dai! Dai di questa! Ma vedi che non c'ho saltato? Ti me la dai adesso? No! No! Oddio, regalo! Dai, entra! Mortacci tua! Eh, no! Niente, è finito! Fanculo! Mortacci della Spagna del merda! La Spagna è molto odiale! Cioè, non ci posso credere! Non ci posso credere! Vabbè, regà! Detto questo... Che palle! Noi ce l'abbiamo messa tutta, manche sempre una pippa, però... con Football Lens! 2014 World Cup! Riccardo da Google lo trovate! Nel video! Che sta anche poi con la Serie A! Se vi piace, io, vedendo il gioco, ne faccio tutto a caso della Serie A! Faccio un altro episodio! E... Scriveteci nei commenti se volete un altro video di questo gioco! Qual è? Un'altra parte del Mondiale! Cerchiamo di vincerlo la prossima volta! E... Cerchiamo di vincerlo! E... Oppure se volete una sfida io contro di lui! E niente! Noi ci becchiamo al prossimo video! Dai Grazie a tutti! Bella! Bella! Ciao!